E riparte Diaz, 0-0, 38 di gioco, 6 e mezzo alla fine esatti, più recupero ma credo che lui non ci sarà, perché non è stato mai fermato il gioco. Hernanes, con cuo, c'è Gonzalo che si chiede nel pallone, poi ancora Candreva, riesce il triangolo, close, aspetta il pallone, ma un pallone sporco, Mauri non ci riesce a percarlo, la palla che rimane in campo, la va a prendere Gonzalo, se la mantiene in campo, la palla in mezzo, il gol di Miro, close, ancora una volta il nostro tedesco, la nostra aquila tedesca che manda la palla alle spalle di Uicani, è stato un gesto da goleador vero, perché solo i grandi attaccanti, quelli che giocano a livello mondiale possono fare questi gol, un attimo, un solo attimo per colpire. E' più semplice ragazzi, se lo vengo giù, con cuo, ancora palla all'indiello per Hernanes, c'è Candreva solo, viene servito, vediamo se riesce a caricare il destro, bravo Candreva, oddio che ha fatto, 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 ha caricato, ha caricato il destro, all'incrocio da pali, mamma che gol, mamma che gol, mamma che gol, mamma che gol, sotto la curva nord, sale sulla curva nord, entra in curva nord Candreva, entrato in curva nord, l'hanno sequestrato, che gol Candreva, Antonio Candreva, che cosa ha fatto Candreva, un gol d'altri tempi, una botta, come l'ho visto partire, sapevo che andava l'incrocio a dei pali, ha bugato la ragnatela, Antonio Candreva, Onazzi, ha regolato un buon pallone, palla per Candreva, avanza anche Luric, Candreva, Luric dal fondo, il cross arriva, Oh, mamma mia, Milo Close, un'invenzione straordinaria, si è messo la palla sul petto, ha scavalcato il suo avversario e poi di piattone ha colpito, un gol d'antologia, un gol che solo i campioni possono fare, questo è Milo Close, ce l'abbiamo noi, segna sotto la curva nord e va a ringraziare i ragazzi della Lazio, soprattutto Luric che gli ha messo una palla d'oro, Milo Close, un gol strepitoso!